buongiorno oggi è domenica fine marzo 2021 siccome me l'avete chiesto in tanti vi faccio vedere quando travaso i peperoncini in questo caso labanero maya red come levo le fogline sotto per rendere la pianta più areata diciamo e per farla sviluppare verso l'alto allora vi faccio vedere così ecco prendiamo questa si levano i cotiledoni perché è anche le foglie sopra perché hanno fatto la loro funzione questa è già a posto mi levo anche questa questa sicuramente ecco questo è un esempio più calzante vedete le foglie in basso semplicemente le levo alla base diciamo sotto la biforcatura che ancora non c'è però resta così vedete il tronco resta bello libero devo anche questa ecco e adesso sono pronte per essere travasate parios semistrani.it